Arrivano da Piacenza, Forlì, Senigallia, Genova e Finile di Fano i cinque cori finalisti del concorso canoro sulle note della fortuna, organizzato dall'associazione tra le note e promosso insieme alla fondazione teatro con il patrocinio del comune. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione e dedicata alle scuole primarie, vedrà la partecipazione di 300 bambini. Il programma è ricco come tutti gli anni, in una ripartenza ancora di più. Il 2 giugno prevede le audizioni dei cori che sono stati selezionati in un momento antecedente alla Sala Verdi, alla presenza della giuria qualificata, che valuterà il primo step perché i cori si esibiranno con base orchestra, quindi prima di incontrare l'orchestra e verranno valutati dalla giuria come primo ascolto in assoluto. Invece nella giornata di venerdì 3? La mattina i cori arriveranno e faranno la prova, la prima vera prova con l'orchestra perché quest'anno appunto la novità è l'orchestra. I cori saranno accompagnati dall'orchestra con le parti arrangiate da Luigi Grigioni Faggi, quindi un'operazione abbastanza grande. La mattina quindi eseguiranno le prove in teatro e il pomeriggio invece ci sarà la serata finale, quindi diciamo la gara, una gara tra virgolette perché è una festa, dove verranno individuati tre vincitori che vincono una borsa di studio per proseguire i progetti corali e anche verranno premiati da una giuria di bambini, che sono i bambini del coro di Bellocchi che per la prima volta si trovano ad essere giudicanti di amici coristi, quindi di colleghi coristi e decreteranno il vincitore del premio La Fortuna. I genitori che accompagneranno i piccoli coristi potranno seguire l'evento dal Cinema Politeama, dove verrà proiettata l'iniziativa, visibile anche in diretta sul canale YouTube dell'associazione. La finalità dell'evento è quella di promuovere la cultura e l'educazione musicale nelle scuole perché considerate fondamentali nel processo di maturazione e di affermazione della propria identità. Il progetto è stato condiviso sin da subito anche dalla presidente della Fondazione Teatro. Il nostro obiettivo, ha dichiarato Katia Amati, è quello di aprire il teatro ai giovani, facendo sì che questo luogo di cultura possa essere di tutti. Fanno, aggiunte invece il sindaco Massimo Seri, è ancora una volta capitale delle bambine e dei bambini. Le iniziative infatti sono sempre più e di grande valore. Questo concorso canoro per cori di bambini e bambini è un bel momento, devo dire che negli anni è cresciuto, ha avuto purtroppo l'interruzione della pandemia, ma qui c'è stata un'evoluzione ulteriore perché oltre ad esibirsi i cori con le bambine e bambini, sono accompagnati anche da un'archestra di giovani, di ragazze e ragazzi. Quindi è un inno alla giovinezza, è una valorizzazione dei nostri ragazzi, ma soprattutto è una bella iniziativa per la città, per chi viene. E qui, come dico sempre, le cose non capitano per caso. Qui c'è un grande merito, è quello del coro di Bellocchi, della maestra Stefania, con la sua organizzazione, con i suoi collaboratori, perché, come dicevo, le cose non capitano per caso, non è la fortuna, vanno preparate e qui c'è stata un'elaborazione, un'evoluzione che ha portato a questi grandi risultati. Quindi grande soddisfazione, ma soprattutto un grande grazie a chi rende possibile tutto questo.